Sì, sono contento perché non è facile star fuori e bisogna farsi trovare pronti. Io ho cercato sempre di farlo, ero contento della prestazione d'Arezzo, oggi ancora di più perché sono punti fondamentali per noi. Sì, perché l'abbiamo studiata, sapevamo che è una squadra che non è magari bellissima però è una squadra pratica, è stata attaccata alla gara fino alla fine, avevamo trovato il pareggio, la gara era quella, l'avevamo preparata così, siamo stati bravi a non concedergli più di tanto e poi a punirli. Me lo auguro, me lo auguro perché ne abbiamo bisogno, io personalmente ma soprattutto la squadra perché abbiamo dimostrato che non siamo inferori a tante squadre ed è un peccato trovarsi lì. Io sono contento delle prestazioni che abbiamo fatto nelle ultime 5-6 partite perché abbiamo concesso poco, purtroppo la sorte non ci girava bene, però secondo me siamo sulla strada giusta. Sì, sì, io sto bene e se sono qui sono qui per dare una mano, questo penso, ce lo voglio chiarire perché non sono qui a fare vacanza o niente, per cui io ci tengo, ci ho sempre tenuto, sono stato fuori, starò fuori, starò dentro, però io mi ritengo un professionista e come tale si deve fare tutto dal punto. Sì, sì, c'è e ci dobbiamo credere perché l'abbiamo dimostrato nonostante i risultati che, ripeto, ho visto molte squadre peggio di noi e sarebbe grave non andargli davanti.